Oggi nuova avventura, ci troviamo in quel di Illasi, precisamente in località Santa Giustina. Io sto camminando all'interno di un vigneto e lì dove ci sono tutti i camper, ora ve la faccio vedere, c'è questa fantastica area gratuita, bellissima, guardate che panorama. Bellissima, c'è questa fantastica area camper, come vi dicevo, gratuita, nel senso che la sosta quantomeno è gratuita, lo scarico anche, adesso non ricordo il carico dell'acqua, costa qualcosina, ma veramente una virgola. Molto carina e video sorvegliata, quindi direi massima tranquillità. Qui vedete tutta quest'area che è la pista ciclabile e poi tutta questa. là in fondo c'è proprio lo scarico e tutta l'area camper. bella, carina, oggi la giornata non è proprio fantastica come potete vedere, però se si vuole passare comunque una domenica alternativa, questa è quanto. ora ci dirigiamo verso il nostro Ottavio e vi faccio vedere meglio. eccola qui, lì come vedete c'è il nostro Ottavio, bellissimo perché è tutta immersa nei vigneti. eccola qui, questa è l'area camper Paolo Giaffani e questo è il nostro Ottavio. molto bella perché comunque ci sono i cestini, c'è la parte dell'immondizia, qui vediamo cosa c'è scritto, eccola qui. fatevi lo screen se volete tutte le informazioni, qui ci c'è addirittura la storia della città di Lasi e immersi nei vigneti abbiamo la piazzola. come vedete è bella grande, eccola qui. là in fondo ci sono i cassonetti, l'aria scarico, un piccolo parco giochi e qui insomma poi ci sono gli altri camper e qui siamo noi. ciao